Restiamo in Serie C per parlare della Fidelisandria con il notiziario di giornata dove ci sono novità riguardanti i test di controllo al Covid per tutti gli atleti del gruppo squadra Biancazzurro e dello staff tecnico. Lo leggiamo dalle analisi è emerso un nuovo caso di positività. Si tratta di un giocatore vaccinato e asintomatico. Il gruppo è stato immediatamente posto in isolamento come da protocollo sanitario. Negativizzati invece i componenti dello staff di Ciro Ginestra che sono tornati regolarmente in campo. Sono quindi al momento due i componenti del gruppo squadra positivi al Covid. Inoltre ha ripreso a pieno ritmo ad allenarsi anche Alex Benvenga, Fidelisandria che lo ricordiamo sarà una delle prime squadre a tornare in campo per affrontare la semifinale di andata di Coppa Italia di Lega Pro contro il Sud Tirol. Non è ufficiale ma è ufficioso l'anticipo alla giornata di martedì 18 gennaio anziché mercoledì 19 si giocherà alle ore 15.